Noi abbiamo un ministro che ha detto a tutti quanti io do le quote, le vendo, le do al mio compagno. Noi ci abbiamo creduto perché altrimenti era in conflitto di interessi perché lei ha le delega delle concessioni balneari. Noi scopriamo, abbiamo scoperto nel domani, il servizio è perfetto, che lei ancora è proprietaria attraverso l'immobiliare Dani, che è anche società della Key Group, quella che secondo alcuni dipendenti non pagava, eccetera, eccetera, e per cui è stata chiesta istanza di fallimento due giorni fa, quindi la lista ti mancava la cosa più importante. Lei prende, attraverso questa società, 300 mila euro l'anno di Twiga, che è una società balneare, quindi più soldi fa Briatore, più soldi fa quella concessione balneare, più le riesce a pagare il fisco. Il conflitto di interesse è gigantesco, lei o fa la ministra o fa la concessione balneare. Grazie a noi.